Novis Tecnologie, sound e furlane, Mauro Missana nel microfono, Giorgio Ianni, si investa le chi d'onglie di me per fevelare di chi che l'evoluzione, le rete, ce che ha portate, venne dite tante srobe, se non varrino occasione di mettere in t'adun anche mo, è importante in questi discorsi perché non si fa capire anche se cambia le rete, internet e le vite, poi dice che al San Meis, se chiali in Daur, a 15, 15 in Daur, le vite era completamente differente, anche in che volta, non sai, 30 anni fa, non erano i telefonini, eppur si chiatava i CD stessi, però come ho c'è, non si arriva a chiatarsi, le tecnologie anche ti dà un po' poche di sclavitù e anche dei grossi vantaggi. Ecco, io, non sai, voi mi sticciate un argomento che riguarda onde furlane, le lingue furlane in senso generale, si diceva che le nuove tecnologie si avrebbero incopare le lingue locale perché sarebbe passata normale inglese. Ecco, io ho grandi memorie per ricordarmi un blog, questi spazi in rete, questi diari in rete curati di Dre Venier che ha avuto un successo terribile, tutto per furlane, che è il furlanista, e non vedi che coppa ad esempio le nuove tecnologie si è andata la possibilità di essere panduiti a queste lingue locale come il furlane, addirittura sulle rete delle persone più giovani che non arrivavano a capire un po' altro, come credo che sei naturale, sono stati stanchi che i di passato, che dicevano che non si parli male a farlo per furlane e tutto il resto, invece con le rete, come non sai, un zelig, come devono diventare queste persone, cioè tornano a apprezzare le lingue, anzi, con di più, quello che ha sviluppato il browser, quel programma che vi è arrivato per là in rete, il Firefox, per furlane, è un canadese addirittura, cioè che spardisi che, sì, anche per le lingue locale, le reti, internet, è andato un bel schia, non di poco, pensi a Wikipedia, tutte queste robe schie, certo, ci hai detto, tu, secondo te quali sono le portate anche di questo fenomeno, come si può dare si alle volvi per queste piccole scomunità, anche linguistiche? Ma in realtà era una possibilità che era presente fin da subito nel pensiero di chi la rete l'ha pensata nei primi anni, parliamo veramente dei primi 90, ovvero quello che la rete non servisse soltanto per far parlare persone di Pagnacco con quelli dell'Australia, cioè superare le distanze, quello che la rete effettivamente permette, ma anche costruire quel sistema nervoso locale, territoriale, che permette poi di rafforzare e di dare senso all'appartenenza di una comunità. L'abbiamo visto quando parlavamo di pubblica amministrazione nel corso delle scorse puntate, il riuscire a innervare il territorio con luoghi di conversazione, ambienti sociali, ambienti sociali digitali, stiamo parlando, dei blog urbani, dei forum tematici su problematiche del territorio, una strada, una pianificazione territoriale, sono l'effetto latente, l'effetto parallelo di questo fare comunicativo delle persone, dell'intera collettività su un territorio, è proprio quello di rafforzare il sentimento di appartenenza ad una comunità, perché mi sento chiamato in causa, finalmente, in prima persona, nel poter dire la mia su come dovrebbero andare le cose, e tutti quanti siamo allenatori della nazionale, quando ci si mette, ma non soltanto in un bar dove il discorso comincia e finisce con quelle dieci persone del bar, ma dentro un luogo, magari con sopra un logo, una scritta comune di Remanzaco, Regione, Friuli, Venezia e Giulia, dentro cui è possibile maturare un'opinione pubblica con più o meno esperti, dove è possibile manifestare se stessi la propria idea abbia riguardo. Ecco, le slinghe locale c'è un vantaggio che può dare con le reti, anche perché tante intende, il D.D.W. ha studiato, può arrivare a recuperare di una banda delle slinghe locale, che in realtà forse sono più vivarose, dice che al sa me, ma il stesso impatto è che dovrà essere attivamenti, non lo facciamo ogni dì per radio, però anche su internet ho visto che anche se non è così tanto non per furla, nessuno è sbagliato. Guarda, il significato è quello che la tutela delle minoranze linguistiche ha sempre avuto, cioè la cura per la biodiversità, direi, in questo caso che stiamo parlando di culture, non del DNA, di una specie biologica, di un DNA culturale, quindi della ricchezza di un territorio e della ricchezza planetaria per poter favorire e permettere la convivenza e l'interfaccia, perché questo è essenziale, tra lingue diverse, attraverso una lingua terza, attraverso una cosa, comunque questa qui è esattamente come la ricchezza della società, internet è una cosa sociale, questa è la ricchezza anche della rete, cioè la presenza di più lingue senza che vi siano delle gerarchie d'uso, delle gerarchie di valore che non siano quelle d'uso, chiaramente l'inglese è la più usata, ma non è che sia ovviamente la più importante, sempre meno... è sempre più una babela, anche se qualcuno non lo diceva il contrario, perché io conosco tanti sostenitori delle lingue uniche, sono che dal italiano, non sempre scrivono bene per l'italiano, lo fanno bene, che dall'inglese non sempre lo fanno bene, anzi tu pensi che sei di un buon deposto che lutta bene proprio con grande qualità, perché non si possiede riduce proprio da news Shakespeare, perché tanti inglesi non capiscono Shakespeare, ma queste... i nomi non è sclesute, come un po' triste, però in realtà ti hai notato che è sempre poi una babela, chi ha l'attore, ogni tanto mi divertisse a lei dagli articoli in altri slang, mi sforzi di lei al cirillic, tutto il resto, però forse non si adatta anche un'idea delle signoretà linguistiche dal mondo, se hai detto tu... Eh, se la vedi in quest'ottica qui facilmente sì... Eh, io arrivi a via e dire un nome così... No, 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 ma è giusto, ma è un'ottica più alta, anzi, cioè quella che vede che probabilmente per uso, per pratica, per prassi quotidiana, tutto questo mescolarsi di lingue, di apporti linguistici, di vari gerghi che possono essere sia dentro la stessa lingua, l'utilizzo di gerghi differenti, gerghi alti, stili più alti o stili più bassi, contrapposti all'uso proprio internazionale, transnazionale, di linguaggi diversi, ci sono le solite teorie secondo cui potrebbe emergere un domani come lo spanglish, no, che parlano fondamentalmente, in California non parlano quasi più americano, parlano una lingua che è tra l'inglese e lo spagnolo, visto che metà della persona sono immigrati in medicina. Di fatto lei è curiosa il fatto, una volta non sarebbe succeduto che tanti, che tanti proprio che favano l'inglese americano come prima lingua, capiscono anche il spagnolo grazie da spanglish, perché avevano qualche volta dai commensi, dai testi, dai testi scrissi in castigliano per l'inglese o spanglish. Sì, sì, ma è un fenomeno tipico linguistico delle comunità di confine, dei luoghi di contatto, piggino, altri meccanismi secondo cui si creano delle lingue franche che permettono, è quello che quando parlavo di interfaccia, non è che si inventerà la lingua nuova con cui tutti quanti quelli in rete parleranno punto e basta, si creeranno sì dei fenomeni di mescolamento possibilmente tra culture diverse, culture ripeto non soltanto linguistiche, anche di appartenenza sociale tra vari tipi di persone, che però per la prima volta, non avendo più a che fare con delle dimensioni fisiche della realtà, ma dentro la rete, si trovano mescolati nello stesso unico calderone e quindi potrà emergere delle cose, questo è un discorso da fare, io sono tra quelli che dice che non sia una buona cosa in questo momento provare a sputare sentenze su come sarà la rete tra cinque anni. Infatti pensi che sei anticomplicante. Tu hai appena detto che 15 anni fa non c'era praticamente il cellulare e non c'era praticamente la rete, c'erano però, cioè li usavo una persona su tante, cinque anni fa non c'era YouTube, YouTube ha cambiato completamente il mondo, cioè è la memoria storica, visiva di tutto quanto quello che è successo sulla RAI, sulla televisione, trasmesso dall'umanità, riproposto all'umanità e posso andare a guardarmi Raffaella Carrà di mille luci nel 72 per dire, è importante la memoria storica, mio padre è rimasto folgorato da YouTube per la possibilità di recuperare delle sue cose di quegli anni. E sono tante persone sanziane che resti, che chiali in tuoi parti, si chiapisci il computer e tu gli aggiri se resti. E vai a cercare il tuo. Quindi in questo caso qui parliamo quanto vogliamo, buttiamo giù delle tracce, delle indicazioni, dei modi di fare, delle visioni sul futuro ma senza la pretesa di poter subito stabilire in questo momento quali saranno le linee di sviluppo, perché siamo dentro un mondo, un mercato, un'industria, una cultura economico, sociale, linguistica, quello che vuoi, che sta subendo il più rapido cambiamento che l'umanità abbia mai vissuto. Ti faccio l'esempio classico, la stampa l'hanno inventata a fine 400, metà 400, per inventare i quotidiani ci hanno messo due secoli. E uno pensa, ma com'è possibile che uno inventa la stampa e non inventa il giornale, quotidiano, in realtà all'inizio andavano gli almanacchi, altre cose. Non è che nasce subito l'idea, sono 15 anni che stiamo a ragionare con pagine web, l'HTML, domani il bambino che in questo momento è in quinta elementare diventerà il genio perché sarà nato dentro il linguaggio. E con una frase che mi piace dire, noi non abitiamo territori, noi abitiamo linguaggi, perché dentro quel linguaggio noi abbiamo una visione del mondo, dentro la visione del mondo potremo e capire e produrre oggetti culturali nuovi. Bene, anche per se che come voi noi stiamo lavorando le lingue differenti, si capiamo perfettamente, però stiamo lavorando le stesse cose, c'è tenuto conto, con le lingue differenze. Bene, Giorgio Yannis, tornaremo a chiedere sempre il suono di furlano e voi si impartis proprio le nostre lingue, le lingue di comunicazione, le nostre radio, per capire tante cose, anche su che il calpodaresse in nostri futuri, il semiolico, insomma, Giorgio Yannis, noi accompagnerà anche ora con un viaggio delle nuove tecnologie su internet, c'è che cambia le nostre vite e tutti questi spuntati su una cosa che viene capita, che cambierà talmente ritantes che nanchino immaginino. Esatto. Grazie Giorgio, mandi un buon giornale, mandi.